Vavis, un suo commento su questa campagna elettorale che si sta per concludere? Beh, è stata una campagna un po' atipica, quindi con un clima abbastanza di fair play, senza grossi attacchi e anche senza grossi spunti eclatanti. Quindi anche i cittadini li hanno visti un po' assopiti per alcuni aspetti. Negli ultimi giorni si è animata, invece le persone si interessano su chi votare e si interessano anche, questo fa piacere, ai programmi, quindi le proposte che ogni candidato mette in campo. Io consiglio a tutti di usare questo metodo, cioè non scegliete a scatola chiusa, non scegliete per simpatia, non scegliete così per sentito dire, ma magari vi documentate un po' che cosa propongono i vari candidati sindaco e i vari candidati del Consiglio Comunale che ci sono. Una volta fatta un panoramico, un'opinione, beh, scegliete con consapevolezza. Scegliete chi volete, ma scegliete con consapevolezza.